In compagnia di Antonella Sotira, che ha animato, che ha inventato, ha animato questo salotto giuridico-letterario premio, use art e libri, il ponte della legalità, intitolato quest'anno, facciamo un piccolo check-up in qualche modo. Come sta andando? Sono ormai più di una presentazione che abbiamo seguito. Come sta andando? Il pubblico era tantissimo oggi. Sì, stasera abbiamo fatto il piedone, insomma. Era anche il libro più aspettato, perché era un libro, a differenza del romanzo del dottor Angelo Martinelli, che si spostava dal piano proprio della giustizia, questo era proprio un romanzo che rimaneva calato in quella che è la nostra realtà di giurissi. Quindi le riflessioni di un magistrato, la pesantezza del giudicare. Quindi questo è il nostro quarto romanzo in concorso. Quindi sta andando bene. Quest'anno poi abbiamo aggiunto questa nota della musica, quindi abbiamo avuto questa cantastorie calabrese, l'unica donna cantastorie. Volevamo omaggiare i brutti ricordi che il presidente Leoni aveva nella sua esperienza all'Ocri, come il magistrato di prima nomina. L'altra volta invece abbiamo avuto anche dei magistrati che hanno suonato, ci hanno divertito. Per le prossime volte avremo anche altre sorprese canore, anche perché con noi abbiamo il presidente del Conservatorio di Napoli, il professor Palma, non solo giurista ordinario di diritto romano, ma anche nella sua veste di cultore della musica classica. Diciamo che in questi appuntamenti letterali ho visto che un pochino si realizza una specie di concorrenza, anziché in aule di tribunale tra magistrato e avvocato, diciamo con la penna in mano, come virtuosi e scrittori. Beh, inutile negare che c'è sempre una conflittualità, no? Del resto, come ha ricordato anche Palma, alla fine tutto si realizza nella conflittualità. Per cui chi ha una forte identità da avvocato come me o come i colleghi che sono intervenuti oggi, è ovvio che questa identità viene rivendicata e c'è il piacere anche di rivendicarla nei confronti del magistrato che raccoglie la sfida e oggi abbiamo visto che, diciamo, che l'1-0 l'ha assegnata la squadra avvocati. Il dibattito è sempre acceso, è ovvio che noi dai magistrati ci aspettiamo molto e spesso siamo critici nei loro confronti e questo è anche un nostro dovere perché noi siamo al servizio dei nostri clienti e quindi spesso i mali della giustizia purtroppo li subiscono le persone offese dai reati, non soltanto poi gli imputati. Anzi, principalmente, come ha ricordato il Presidente Leoni, noi siamo qui per tutelare le vittime e abbiamo molti processi in cui non si riesce a trovare un colpevole e a dare giustizia a molte vittime. Insomma, vi opponete al monopolio della forza della violenza in qualche modo, come ha detto anche il Presidente, è violenta la giustizia, soprattutto penale, vi opponete al monopolio della violenza dello Stato? Beh, certo, sicuramente, come ha ricordato il Presidente Placani, la giustizia penale è una giustizia violenta e soprattutto c'è l'aspetto poi della detenzione, quindi il carcere è un'altra di quelle cose che potremmo definire senza timore, ingiuste, nel senso che comunque la carcerazione è giusta per il colpevole ma è ingiusto il sistema carcerario che ancora oggi vige in Italia. Antonella, non accendo al prossimo appuntamento, diciamo più o meno di che si tratta. Il prossimo appuntamento è il 24 gennaio, siamo a ridosso della giornata della memoria, ospiteremo un libro che ricorda l'Olocausto, quindi una scrittrice napoletana, il libro è ambientato nel ghetto di Varsavia e poi ci si ritrova a Napoli, catapultati in questa atmosfera in cui una nonna ricostruisce alla propria nipote le vicende dell'Olocausto. e quindi saremo di nuovo qui insieme a molti esponenti della comunità ebraica a cui vogliamo essere vicini anche con questo concorso letterario, anche il concorso è un ponte, il ponte della legalità e anche il diritto alla memoria è un diritto che occorre omaggiare. Grazie. Grazie.